buongiorno a tutte ragazze vi ritrovate a una nuova puntata di naturalmente viaggiando ragazzi abbiamo un Nicolo Rizzello qua con noi Nicolo Rizzello è già impazzito Nicolo Rizzello violento salta in testa le persone non ha pietà anche io Stefano un piacere no 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 Sì. Allè, 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 allè. Forza, forza. Allè, 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 allè.